Giotto Giotto Musica 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 12 S. uno e' una repita no removia che ve mãstudia disse che era era chutava buona cazinh er ware 3 2 2 3 4 ok ora un un mida uno un full wave uh ciò ora siamo arrivati siamo arrivati stiamo al passire full wave watt charger ok, il red natin connect natin sa red to red lang kasi il stator ng SA is natin che non naka full wave hindi na sa kailangan pang rewiring sa loob tape natin maganda yung pagkasil kung wala kayong tape china tape pwede na pag wala, yung may ari nalang masking tape ok, yung ground nya ito natin sa block kasi ito yung ground ng regulator ok rin stop nyo lang para kung sakaling magbibili kayo ng original na si na regulator pwede pa mas safe, mas safe man gila yun mhm iyo maman perbol maman isa i-bag kaya hindi i- suste yamaha gusto pa rin magka 6,1 kasi sator naka kumpira 7,288 mapang kong motor 4,000 mahal ka makala parang yung yelo kahit tabi dyan sa dalawa yelo puti 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 pwede yan, ipag fuse arm din ah è la 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 . No, no ma sono i costumari ma sono i costumari quindi è stato quando si staggiamo quando si staggiamo è stato molto in questo il black l'alleggiamo il strong wire bisogna farlo di essere positiva ma la capacità di positive si è inizitata per l'initore per l'initore per l'initore per l'initore ma la controllo ok e quindi la testa tippo-topp nalang doon natin dito grazie per la visione nel prossimo video ok, start nalang doon tippo-topp nalang doon natin dito 13 14 14.17 standard shout out kaya eric dino from honda ok daraga pala ok